push come si chiamate ricordi? show 1? ciao si, ciao si ciao si no no, qua invece si è preso 2 kg ah 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 tragedia ma tutti con l'everfrost giocano sto blitzkamp don't trade these at home boys ma invece funziona blitzkamp con l'everfrost sei tu che sei un hater paolo allora, probabilmente potrebbe funzionare maaa non lo so lo sai che funziona paolo, sei semplicemente vecchio e non vuoi imparare cose nuove allora no, l'ho provato a giocare questo non te lo consenti e allora sei scarso l'apo, da quale punto ti trovi nella predica allora... sono due tasti paolo, grab e poi everfrost e poi ma non è questo, non è l'incapacità di utilizzare l'everfrost è che non mi sembra efficace, capito? è contro natura, dici? no, preferisco il locket per te è contro natura l'everfrost quindi ho capito cioè lo posso anche giocare ma tanto alla fine quante volte mi aiuta a fare un grab? zero cioè, oh sì mi può aiutare ma io i grab li faccio max range di grab con l'exflash non c'entra nulla con il mio gameplay con il locket posso avere utilità anche senza avere abilità se sono aumentando armatura dando lo scudo tutto e due era solo un'opinione non volevo offendere sorry quindi il locket è la famiglia tradizionale arriva dalla chat sono una studenta d'accordo sempre il locket per l'eternità ma poi mi piace anche come si chiama? level shroud quello che quando grabbi fai pps eh ma l'hanno nerfato paolone eh infatti secondo me il locket è semplicemente più solido allora dammi un secondo che adesso arriva eh il tutto un secondino e ti metto anche questa scena eccoci qua è che io ho la mia barra sotto che ok pronti ora abbiamo la scena fatta a modo ci siamo ci siamo let's go rambo le jarman bannati oh ban di ivern bravi contro contro sceo che sceo sa giocare molto bene ivern quando ci si mette contento contento di vedere questo ban vuol dire che vediamo anche altri pick nella giungla ah ban di blitzkern contro sceo si ci sta la giocatore davvero molto bene anche se secondo me ci puoi tranquillamente giocare attorno quella draft contro non mi ricordo quale team king on aiutami mi ricordo che non prendeva un grab che grabbano kai che era che se fai blind pick si blind pick di blitzkrank ne abbiamo visti un paio in questo mondiale che sono stati bruttini era ce n'era uno contro mi pare che era xiaia lissine era proprio il peggior blitzkrank mai selezionato nella storia vabbè in realtà xiaia lissine li puoi grabbare e possono morire non è facile xiaia di voltare simpo jump è appunto cioè già quello Però non è quello che mi raffassimo Mi raffassimo Maokai, mi raffassimo Malphite Mi raffassimo un Gnar Quello c'è davvero paura di grabarlo Se tu grabbi e Mr. Grab Ti raffassimo Ma se tu grabbi un tank Si è rovinato Se poi è facile con un Okai che premi W e mobilizzato un bersaglio Maokai poi ci dà un favore Perché poi lui ti reingaggia Magari c'è l'aftershock Sejuani viene selezionata da parte di BDS Quindi un po' di lockdown a singolo bersaglio Quando hanno visto Maokai Maokai, minchia Maokai Jace è bellissima come combo Io la adoro perché è un controllo a zone gigante Hai i sapling di Maokai Che possono costantemente prendere Il controllo della mappa e dei singoli bush Quindi avvicinarsi ad un obiettivo è difficile E allo stesso tempo hai la raz di Jace Che quindi se non hai la posizione Puoi prendertela a forza Se hai la posizione puoi tenere tutti lontani Allora Bellissima comp Ma non è solamente questo Il problema è di Jace che viene ingaggiato Maokai fa anche da cuscinetto Quindi non è solamente il prendere visione Il zonare E anche proprio essere un bodyguard fondamentale Per il proprio compagno di squadra Adesso è ovvio che il CFO Siano Gero Martin Com che vuole pocare C'è Kata, c'è Jace C'è un tank che può fare peeling Ok In questi casi io prenderei sustain Per counterare O prenderei hard engage Per cercare di forzare i fight Eh, lo sai com'è sustain in questo gioco Cioè se vuoi prendere un enchanter Non lo fai È troppo 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 immediato da gestirlo Secondo me Buna Sona o una Soraka Possono workare In queste situazioni Sembrano dei pick strani Però avere sustain Contro un team full pock Variamenti ti dà Possibilità di Di giocare All'league of legends Soprattutto se non Hai engage facili E spesso Kaiser gioca clean Jace gioca dal mod zambico Maokai fa da Frontline perenne Quindi io Ci rifletterei Su una sustain Su qualcosa che ti dà Ehm Insomma Più sopravvivenza Sì 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 Ho la band sulla top Lì naturalmente Bandi nixante Bandi darius Bandi renekton A sto punto Ragiono poi Cioè a cui blitz è fortissimo Vado per dieci minuti Aveva cambiato idea No, immagino Avevo detto Blitz è forte contro due pick Poi se prendono altri due tank Il valore Si abbassa Non è che devo Portare avanti La mia idea Fino alla morte Perché l'ho detto prima Allora sembra di stronzo Se la cambiasse Se Eh Ricevo le informazioni Che mi permettono Di cambiare opinione La cambio senza Vergognarmi Anzi No Paolo Devi andare come gli americani Devi tenere il tuo suo Devi tenere lì La tua opinione No io ho ragione Stai zitto Fai schifo E puoi sparare un po' per aria Eh Per dimostrare che la tua Posso farlo Secondo me è un ottimo modo Di argomentare questo Allora Qua innanzitutto Rell contro Alessar Vabbè ci sta Ehm Sono entrambi due Bodyguard Bevere Kaisa mi piace molto Di più rispetto a Xarya Qui Beh dai Se uccidi i minion Hai anche un po' di sustain Così Sei contento Ehm Kaisa mi piace molto più di Xarya Sì Mi immagino già Xarya Che si prende Una pv Una da cui Jace in bocca Una pv di Kaisa Una da cui Jace in bocca Ehm Reperente regolare Inoltre Kaisa Ammazza Se Giovanni Ammazza Maokai Xarya Ha molta più difficoltà A uccidere Maokai Lì può uccidere Ma non è facile Avevo visto L'over Su Camille Ed ero emozionato Oh Sarebbe stato così figo Il pick di Camille Blind Aatrox Davvero Beh Contro Se Giovanni Alistair Mi piace molto Contro Zyrex Mi piace molto di meno Potrebbe arrivare Non lo so Come countertop Qua Ce ne stanno a Yosa Di countertop Perché il punto è questo È che devi giocare La corsia per Aatrox E quello è bruttissimo Set Addirittura Beh set Non è male Perché crea spazio No Sì 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 Ma ti crea anche un ingaggio Ma ok Prova A disingaggiare o proteggere Puoi allontanarlo Utilizzarlo come martello Per demolire La tua La backline di Maokai Da Aatrox Prova a inserirsi Non può farlo Rell prova a inserirsi Stesso discorso Cioè hai creato Non soltanto Una buona Leaning phase Per la top lane Hai creato anche Un disingaggio Per i BDS Se i CFO Provano a ingaggiare Però io ti dico Che secondo me I CFO Li vedo molto 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 sopra Qua Perché appunto Non hanno l'obbligo Dell'ingaggio E l'ingaggio Dalla parte Del Dei BDS Sarà chi Sejuani Un flank di Alistar Un flank di Seth Un Ushurima Però Comunque Devono essere Incaggi Che magari Vado su Maokai Su Rell Su Aatrox Non è detto Che questi campioni Andranno a morire Facilmente Anche una volta Ingaggiati No chiaro Quindi Come draft I CFO Li vedo Sopra Più che altro È sempre Sai cosa Sono quelle draft Che sono Un pochino Più difficili Da eseguire Quelle di CFO E quindi Se giocano Correttamente È veramente Facile vincere Se fanno Il minimo Errore O si rimangono Un pochino Indietro Purtroppo Soffrono È sempre Quello che Mi fa paura Delle poch comp Quando le vedo Così Che questa Non è una poch comp È semplicemente Una poca rass Che ti permette Di controllare La zone E vai per gli obiettivi E poi da lì Decidi che cosa fare Se vuoi Magari prendi vantaggio Cominci anche a Combattere effettivamente Con i tuoi avversari E non solo ad arassarli Ma Mi preoccupa La top side Cioè Quell'Atrox Quanti ceffoni Che prenderà da set Quanti Signori Ci siamo Primo game Nella serie Che potrebbe Eliminare L'Europa Almeno un membro Un membro Dell'Europa Da questi mondiali Oppure potremmo avere Tutti i quattro I seed Deve passare Oggi Per poter Sopravvivere Domani Let's go Let's go Let's go Allora Non ero d'accordo Sull'idea Che è più facile Cioè Che al minimo errore I CFO Volano in paradiso Poi ho avuto Un deja vu Su questa cosa Forse abbiamo già avuto Un'escussione del genere Non mi ricordo L'abbiamo già avuta Ma dove? A Roma? Non mi ricordo Se era qua al mondiale O un altro momento No no Era dal vivo Era dal vivo? Mi sembra dal vivo Sì Comunque Un deja vu Grosso come una casa Ma insomma Non mi sembra che Sono così In pericolo Di soffrire Alistair mi piace Come pick Qua dentro Ovviamente Jayce e Kaiser Secondo me faranno Il bello E cattivo tempo Di questo match Vediamo un po' Come si Spingeranno Io L'hub Purtroppo questa È l'ultima partita In cui posso Sare con te Vai tranquillo Il problema Alla BCS Ma tu oggi Giochi No oggi non giochi Eh no A meno che tu Non abbia trollato Io ti ho detto Oggi non c'è Poi non c'è Giorgio Quindi no 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 tu oggi non giochi Tranquillo Tranquillo Era una domanda Volevo che me lo Riconfermassi Ok ok Allora inizia questa partita Vediamo un po' Chi Rishap Nell'early lead Per ora Botside C'è la priorità Guarda top Ecco Neanche è passato Un minuto E top lane Abbiamo già dimostrato Il perché Aatrox Non dovrebbe essere Giocato alla cieca Vabbè Però c'è anche A dire che Adam Meccanicamente È uno dei Top lane Forti Del mondiale Anche se È vero quello che dici Però Lui abusa Ok Il punto è questo È che È il motivo per cui Non dovresti blindare Aatrox Cioè non è che dici Contro Adam Ma in generale Cioè tu non giochi Aatrox E non lo giochi contro Adam Che tu sai Ti farà queste cose Lui tirerà fuori Questi pic strani Sulla quale Non è facile affrontarti E questo creerà Problemi poi a catena Io li ho persi tutti Il capo Ma il carretto L'ho preso No almeno Almeno il carretto Stavo guardando Dalla live Scusami Attenzione Parte il dive C'è il canal in Bello il knock up Da parte di labbro Teletrasporto in entrata Primo sangue Da parte i crowni Addirittura Rel troppo a profondità E non c'era sufficiente danno Naturalmente Ma che cosa Ma che abbiamo visto Eh quello era Il teletrasporto di Adam Non quello di Nuke Ma lascia stare questo Ma sto dive Era Di un cringe raro Eh sì Ma pure questo Qua un po' di danno A parte di Adam Nella gittata Sì non potevi permettertelo Questo dive Gattro eri senza wave E con attack Poi Alistar Sai che c'è il cleanse Che ti leva i cicci Era proprio una Flippata Grosso quanto una casa Cioè fosse stato Livello 1 Ci sarebbe anche Stato magari Qua ci riprovano Ah sì Con gemini Con 300 hp È il momento Di dare il doppio buff Vabbè Qua Bello Bello Stop Bello Bello Sì però I cfo Se ne voci La ronazio Non c'è Non hanno nessun motivo Di Essere di fretta Non so come dirti Andiamo Stare tranquilli Qua gemini Indemoniato Proprio di far Far accadere cose Le cose succedono Perché succedono Molto filosofico Sì nel momento in cui Ti obblighi a fare cose Perché altrimenti Non va bene E le cose verranno male Per forza Cioè la fretta Non ti aiuta di sicuro Proprio convinti Comunque su quel dive Che non era necessario Questo regala un po' Di risorsa bot side Che doveva essere Non dico la pari Ma comunque Abbastanza tranquillo In early game Molto comodo Per i BDS Ed era Un po' La mia preoccupazione Proprio per I cfo Contro i BDS L'early game Come verrà gestito E crowny Per favore Non mettetelo mai più Su Ezreal Perché gioca così tanto Meglio Xayah Mamma mia Comunque Qua top In ormai Wave Pushata Può decidere Di regolare Rest Bravo labbro Contro Shao Si sta giocando così bene Alistar contro Rell Vabbè L'unica cosa che devi fare È quella Stoppare il jump Senza permettere Di Di atterrare Sì che è una cosa banale Farlo regolarmente Al mondiale Vediamo Secondo il dive Parti l'ingaggio La parzia Rell Rell Prende l'agro Rain Cioè Rijumpa dentro Qui Addox Secondo me Ha fatto anche Un grave errore A stoppare Questo tp Da parte di Jace Perché tanto Il dive Era brutto Ci rubiamo almeno Un tp No Per la delfarm top lane Ha preso il level up La bot lane I BDS Perché Alistar Ha tirato una testata E il minion è morto Mamma mia Cioè Sì 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 Cioè Ho visto che ha tirato Una testata a Rell Sì 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 Ha tirato una testata a Rell E c'era il minion lì Lì accanto Che l'ha colpito Xaia Questo gliel'ha coperto Non lo vedevano Non l'hanno visto Che Xaia ha colpito Il singolo minion Ha preso Quel singolo minion È morto lì In quell'istante E hanno preso Livello 2 Bloccando l'ingaggio di Rell Però Rell ha comunque Cioè post W Tira un autoattacco A meno che non abbia bloccato L'autoattacco Però ha preso l'aggro Poi della torre Quindi GG Bello 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 Come Come timing Bruttino Semplicemente Il dive dei C e Pop Perché dovevano aspettarsi Che erano vicini al 2 Comunque BDS in vantaggio Ma secondo me Se la situazione rimane così Avranno comunque più Oh bello qua l'ingaggio Bello il knock up Oh bel flash da parte di Shun Bravi Probabilmente Era meglio spingere Più verso la base Che verso Sejuani No? A aumentare la distanza Verso questo muro No? Però succede Va bene così E questo con il flash Rubato a Shun Adesso puoi permetterti Di andare per questo drago Xtech Gimian Che intanto rimane Sulla costa centrale Spinto sotto torre Da parte di Azir BDS Facile conquista Bello early game Bellissimo early game Da tutto il team Cosa che prima Non abbiamo mai potuto dire Cioè di solito è Adam Guarda cose Ah non è riuscito a bloccare E la prova ha già usato Tutti i cooldown Ti pusha comunque Fanno da parte Entrambi i lati Qua Adam Ragda leggermente Nulla di grave Ma è comunque Un set Cioè ti rigeneri Talmente tanti HP Questo non capisco Non è comunque un freeze Quindi Ah no I caster sono fuori range Sì Un freeze Ma non è un freeze Cioè comunque La wave Dopo Pusherà verso Gli avversari Eh no Ma ci sono tre Caster e sono L'intera wave Che arriva alle spalle Dai BDS Sono nove dei BDS E sei dei CFO E quindi Se la ct correttamente Riesci a tenere Quella wave Di minion caster Fuori dal range Di torre Rimane un freeze Bello qua L'ingaggio Non sono d'accordo Vediamo un attimo Shousey Immobilizzato Eh non muore Ha il flash Ha il flash Però possono flashargli dietro E quindi Shire of Brand E la facile kill Altra kill Qua la wave sta Pusciando In maniera pericolosa Vediamo se Riesceranno A Sprevare Questo è un bel dive Eh sì Pulito pulito Questo è un bel dive Era zero Per loro Si portò In grosso vantaggio Tutto bozza E vedremo Se riusciranno A capitalizzare Qua Hai i resti Che ne partiamo Si prova a prendere Almeno l'arco granchio Pur di fare qualcosa Qualcosa Nuke nel frattempo Questa corsia centrale Farma tranquillo Sottotore Subisce un po' di arrasa A parte di Jace Ma è senza mana Quindi Non troppo preoccupante Oh Belli sti BDS Solidi Convinti Se questo è il loro primo game Spero in un secondo Anche più convinto Perché poi Sai che hai Il good vibe Dall'aver Giocato bene il primo E quindi Ti carica un po' Certo Beh nel game In cui Adam ha stompato Poi forse si è caricato Anche un po' Too much Non so se ti ricordi Poi è stata una tragedia Eh ma Quello era Era il Darius 6-0 Di ignoranza Poi hanno draftato Anche male dopo Qua invece Sta draftando meglio No? Si Adam non sta più Vincendo La Lying Face Adesso è quasi Vediamo un pochino 2000 gold Di vantaggio Da parte di BDS Non è poco Prima di 10 minuti Qua Gemini Nella bozza Vediamo come Si svilupperà La situazione Anche l'eraldo Topside up Facciamo poche attenzioni Per quell'obiettivo 2000 gold Di vantaggio Prova l'ingaggio Maokai Eh non una bella angolazione Qua Proverà a ingaggiare Su Alistar Ma non è proprio Facile ucciderlo Te trasporti in entrata Da parte di set Per scongiurare L'inseguimento C'è una bella way Topside però Non bene Questo TP Vediamo Se se Giovanni Potrà fare Questo obiettivo Perché Atro Sta già andando là A contestare Potrebbe anche Aiutare Jimian Che però Non è in zona Rotano tutti Verso quell'obiettivo Rest purtroppo Forse gli dà Anche fastidio Il fatto che sa Che potrebbe dare fastidio Ma Potrebbe un supporto Da parte della squadra Magari un po' più Serio Infatti C'è qua andrà A prendere l'Araldo Se Jimian Si fosse mosso Un po' prima Probabilmente Questo Eraldo Non sa Doveva fare Eh però Potevano punire Scorta imperiale Da parte di Azzir Jimian Dalla distanza Riesce a uccidere Sceo Adam Nel frattempo Offside Si raccoglie un po' di placature Grazie anche al demolire Sono due Sono 350 gold Questi che arrivano Eh 150 Belli Buoni Tanta roba Con l'hub che ora Prova a ingaggiare su Shao Si ma il knock up di Rell Lo va a immobilizzare Priorità costante Adam gioca solo per la priorità E nient'altro Continua a premere Continua a pushare Costantemente Che se ce la fa a prendere Quest'altra placca Eh no La wave Non c'è Se fosse stata un pochino Pi' grossa Ci avrebbe provato Probabilmente Però Singolo minion Rimasto Or dunque Vediamo un attimo Situazione di Momentaneo stallo C'è fra 24 secondi Il drago Probabilmente Entrambe le squadre Si dirigono Per quell'obiettivo Vediamo un po' Jimmy Comunque Ottimo farm Per lui Forse con Drago Drago dell'anno Uguale Era uno dei più Intriganti Quindi Se i BDS Lo lasciassero andare Non mi stupirebbe Ma hanno un tale vantaggio Su corsi inferiore Che secondo me Non lo lasciano È troppo Troppo importante Comunque I CFO Tutto ora Libero sopra Come draft Anche se Da gameplay Sembra il BDS Che Stiano avendola meglio Più va avanti Più Vedo difficili I loro fight Il problema è che Secondo Cioè Allora Capisco l'idea Ma allo stesso tempo Guardo e dico Ok C'è Sejuani Che si può tancare La Rass Dalla distanza Perché tuttanto Il prossimo item Quasi sicuramente Farà warm Cioè questo è lo spot Perfetto per fare Warmog Sei contro la Rass Ti tanki di faccia La Rass dell'avversario E senza problemi Riesci a gestire Dalla distanza Quelli che sono i problemi Che ti creano La draft Di CFO E sei in vantaggio Cioè Sejuani Ha già il mitico Completato Siamo a 12 minuti Quindi è anche normale Come ritmo Ma non dovrebbe essere Così semplice Per i BDS Arrivare a questi spike Per i CFO Ci dovrebbero essere Stati un pochino Non dico più aggressioni Ma un pochino più successi In early game Cosa che invece È stato il contrario Hanno regalato successi Ai BDS Con quel diving bot E Ho paura Ho un po' paura Ecco Per i prossimi minuti Ci sta Secondo me questo Atrox Farà il bello Il cattivo tempo Ma soprattutto Kaiza e Jace Li vedo I protagonisti Di questa pratica Qua nel frattempo Invece però In BDS Continua a mettere pressione La prendono La prendono Questa Facile E Crowny Raccoglie felicemente Queste risorse 425 gold Dopo che ha già Il Kraken Slayer Cioè Kaiza ha completato Un oggetto Da letalità poco costoso Lei ha finito Il Kraken Slayer E i Boots Livello 2 Questo vuol dire Che quando torna in base Prende altro Mezzo oggetto Continua a rest A dare noia A questo Adam Un livello di vantaggio Momentanamente Per lui Qua Oh Grand Trade Grand Trade Sì Una buona risposta Con i pugni nelle mani Però Adam Ad ora deve stare Un attimo più indietro Hai Un Atrox Che è riuscito Come dicevi tu A outlivellare Adam Grazie anche Le rotazioni Del trasporto Di Adam Che L'hanno portato A perdere Un paio di minion Qui e lì Ora C'è da vedere Quando arriveranno Gli spikes Sui singoli oggetti Come cambieranno La misura Di questi trade Infatti Gordringer Completato da parte Di Adam Dovrebbe arrivare A breve Anche per il resto Penso sul recall Della prossima wave Lo andrà a fare E Vediamo un attimo 3000 gold Adesso Per il BDS Due draghi Per loro Quindi il vantaggio Inizia ad essere Sostanziale La prossima direzione Quale potrà essere La torre top lane Cercheranno di prendere Quella C'è un dive Con Acer Può essere L'idea Cioè Acer Qua si sta Avvicinando Infatti Lo stanno già Anche leggendo I CFO Guarda C'è Rell Già top side Ma Okai È su quel lato Superiore Per scongiurare Il dive Cioè Avendoli visti Ruotare top side Sanno già Che quella È l'idea Non c'è neanche Il messaggero Per i prossimi Minute 40 Quindi non è Neanche così worth Immagino che stiano Cercando di continuare A baitare Tra virgolette Tipo i recall Come quello Che ha appena fatto Jace Così Crown È libero Di farmare Mid lane E poi andare Back E starsene Un attimo Più safe Cioè Sono questi Piccoli spostamenti Che non sono Atti a fare Un'azione Vere e propria Ma piuttosto A dire Ok Io ti porto Top side Così che Jace Dice Ah ok Posso ricollare Perché tanto Top side C'è la copertura Al massimo Mi te trasporto In E questo però Lascia Xai Ha il tempo Per farmare Mid E poi Rimanere safe Tutto il tempo Mi sta piacendo Darà fastidio Probabilmente Sì C'è ancora Il tprs Però Quindi nulla È grave Anche Essere Interrotto Inoltre C'è Jace Che è arrivato A Tenere La corsia Mid lane Attenzione Quell'Eraldo Può essere Un motivo Di fight Anche qui In top Per l'investimento Importante Da parte Di BDS Con New Che Adam Sì sì Se la prendono Facile Perché prima Era solo Adam Con New Che Adam Hai uno Dalla gittata E uno Corpo a corpo Che colpiscono La torre Atrox Ha già paura Di essere Dai Vato Per quanto Gemini Sia lì Non è che Dici Se la God È safe Jimmy Perdonami Era Jace Non Atrox Scusami Va bene Va bene Quindi Torre top Le imprese Così A gratis Vantaggio Che ancora Si incrementa La parte Di BDS A breve Però Probabilmente Sistono Il primo Fight Vediamo Se Questi Pock Sono già In Come dire In posizione No Per dare Fastidio Errone Avversari Non ho capito Puoi ripetere Scusami Cerchiamo di capire Se Skys E Jace Sono già In condizione Per dare Noia No Se Magari Serve Qualche Item In più O se Invece Già Adesso Possono Disturbarli Allora Possono Disturbarli Quello è Sicuro Però Ho la Sensazione Che Molto Della Rasta Se lo Tankeranno Tranquillamente Alistar E Se Giovanni Per Poter Permettersi Di fare Questo Obiettivo Anche se Non sembrano Volerla Usare Così Ancora La compi CFO Cioè Guarda Alistar Va a pulire Ogni singolo Bush Da quelli Che sono I sapling Di Maokai Jace Che Non ha Ancora Abbastanza Ability Ace Per Spammare Le sue Q E di Consequenza Ne fa Una Se la Manca Ok Deve Tornare A farmare In lane Non c'è Nient'altro A fare Perfetto Giochiamo Adesso Per Per Il Draco Vedremo Se entrambi I team Sanno Ligi E puntuali Sull'obiettivo Che Fra 10 Quindi In realtà Leggermente In ritardo I BDS Però Hanno preso Un obiettivo Per Compensare E qua Possono Già Setappare Vediamo Un attimo Arriva anche Il tipi Da parte Di Jace Vediamo Un po' Come si Evolverà La situazione Eh Questo Devono contestarlo Perché Il Soul Point Cioè Regalare Il Soul Point A 17 Minuti E 50 Non è Proprio Bello Perché Poi Dopo Sul prossimo Risponde Il Drago Potrebbero Dividerla La fama E tra i BDS Messaggero Evocato Almeno Distrai Un minimo E si E poi Poi Prenderti Spazio Sul Fiume BDS Un po' Aggrediti Da parte Di Resto Che Da un po' Fastidio Ecco La Rispetto Ad Vediamo Anche Labro Che Sta Zonando In Menti Maokai Soul Point Conquistato Da parte Di BDS E Già Tardi Purtroppo E Questo Vuol Dire Adesso Per i CFO Devono Solo Zonare Sejuani Che Parte Per L'ingaggio Vanno Su Maokai Tanti Danni In Entrata Esploso Già In Apertura Rest Che Va Attivare La Su Suprema Pronto Di Seguire Cerca La Scorta Imperiale Per Spingere Jaze Nelle Braccia Del Resto Del Su Team E Ci Riesce Senza Problemi BDS Che Trovano Un Fight Vincente In Maniera Elegante Va Molti BDS A Attendere L'ingaggio A Trovare Maokai Fuori Posizione Trovano Una Buona Kill Aveva Anche Il Flash Ma Aveva Riuscito A Utilizzare Ragini In Tempo E A Breve Alizar Potrebbe Anche Chiudere Radiant Che È Un Item Fondamentale Per Avere Molto Più Tancosito Nei Fight Ancora Manca Sustane Da Bact Di Atox Manca Pock Da Bact Di Gis E Casa Che Proprio Adesso Hanno Chiuse Due Item Ma Rivediamo Nel Fight Perché C'è Tanta Esitazione Da Di CFO Non Vogliono In Ingaggiare E Il Po Che P Non C'è Stato Sai Si Ha Perso Un Po Di Vita Ma Non È Sufficiente E Qua Dicono Che Famo Che Famo Ingaggiamo Ingaggiamo E Sono Proprio I BDS Decide Il Ritmo Della Partita La Bela Combo Tiena Bene Il CC Sul Gemini E Iniziativa A Quel Punto Fox Era Più Saggio Semplicemente Give up Il Drake E Qua Fuori Posizione Jamie Costituta Flash Deve Salvarsi No 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 Non Ha Senso Fare Baron Adesso Cioè Per Quando Tu Abbiamo Rubato Il Flash Di Maokai E Dici Ok Magari Potresti Provarlo Ora Hai Nuke Bot Side Che Vuole Comunque Prendersi Un po Di Risorse In Più Forte Di Lion E Lui Che Porterebbe Il Grosso Del Danno Su Questo Obiettivo Ok Provano Inganciare Sul Labrov E Ancora Forte Di Flash Ulti Infatti La va a Utilizzare Santo Ora Arrivano I Controlli Labrov Rischia Utilizza Testata Per Flasciare Attraverso Il Muro Teletrasporto In Entrata Da Per Scongiurare Un'ulteriore Aggressione Un altro Teletrasporto Arriva Anca Zir Però I CFO Vorrebbero Andare Oltre Cerca Di Andare Anche Su Sceo Che Viene Incatenato Flascia Via Pur Di Evitare Le Catene Di Adrox Bravo CFO Hanno Contestato Molto Bene Questa Zona Tanto Commitment Dei BDS Per Proteggere Labro Che Dico Si era Salvato Per Quale Motivo Investire Così Tanto Assolutamente Sì Forse Più Già I Fight Sembrano Prendere Un'altra Piega Molto Più Dolore Da Partire CFO E Vediamo Come Si Svilupparà Nei Pozzini 5 10 Minuti C'è Da Dire Però Che BDS Stanno Per Prendere Questa Bellissima Soul E Mountain Soul Potrebbe Cambiare Un po' Il Ritmo Anche Perché È Un Counter Del Poc La Mountain Soul Quindi Hanno Avuto In Questo Senza Un po' Di Vortuna Avere Quello Scudo In Più Con Le Resistenze Bonus Aiutano Se Giovanni Che alla fine Sta andando Di Randwin Cioè Già Prima Volevo Parlarne Quando Visto Il Warden's Mail E Adesso Che Vediamo Anche La Giant Sbelt Ha Proprio Confermato Quello è Randwin Nonostante Non ci Sia Critico Perché Jace Non va Di Critico Naturalmente Perché Va Per Letalità E Ti Incolcisce La Cesta E In Su Se Giovanni Cosa Avresti Fatto Come Alternativa Ho Capito L'avevo Detto Prima Sì La Warmog Perché Così Puoi Tancarti La Rass E Rigenerarti In Una Manciata Di Secondi Perché Tanto Le Vanno A contestare La Vision Qua Adam Il Bullet Se Lo Può Permettere Momentanemente Vediamo Se Arriverà Qualche Bel Colpo La Partition Non c'è Ancora Nulla Mi Di S Che Ora Stanno Cercando C'è Drake Eh Vogliono Per Ora Vogliono Wake Cleare A Zirk Ancora Topside Che Era Indeciso Se Andare Topside Adam Qua Che Trova Un Mellingato Sul Rest Però Risponde Molto Bene La Rass Di Jace Comincia Finalmente A farsi Sentire Ora Che Ha Completato Muramana E Metà Del Serilda Il Punto È Che Sono Arrivati A Questa Fase A 23 Minuti Con I BDS Che Hanno Tanto Vantaggio L'Abro Qua Sta Rischiando Veramente Grosso Con Questi Knock Up Da Parti Rest Non è Il Poi Prova Ci Lancia Mezza 3 Eh La Rasticista La Distanza Finalmente Va A segno E Finalmente Ha Fatto Male Un Bello Shutdown Raccolto Da Parti Di Jimien Qui Questo È Quello Che Doveva Succedere E Questo È Antipatico Rass Hanno Addirittura Detaie Quindi Possono Prendere Ancora Pi' Vontaggio Qui Boom Poca Questa Saga Che Non ha Maniera Di Pocare Arriva Ultima Partita Ok Costita Il Flash Io Qua Partito Sino Non Sera Dato Ma Bellissima Ultimate E Qua Gemini Da 49 Km Di Distanza Riesce Comunque A Trovare La Kill Quindi Molto Brava Buona Comunicazione E Buona Fiducia Da Parti Di Rell Del Compagnia Squadra Ma Qua Io Vedrei Bene Occhio Scherzo Perché Qua Ci Prendere Morire Rll Rll Si Porta Sicuro Con Un bel Salto Tra Secondo Me Sarà Anche Atrox A Fare La Diferenza In Questi Fai Perché Otterrà Molto Più Valore Rispetto A Sejuani Rispetto A Sette Rispetto Ad Atrox Adesso La Partita Secondo Me I BDS Non Dico Che L'hanno Persa Ma Praticamente L'hanno Persa C'è Questo Ingaggio Da Parti Di Labrov E Figlio Del Dello Stress Ricevuto Cioè Ora E Stull Topologi Avrebbero Vincere Molto Prima Poi Ovviamente Il Caster Li Sta Condannando I Sf A Perdere Robo Vedo Molto Difficile Una Vittoria Adesso Vado online Andri Basta Che Trova Una Buona Scorta Imperiale Esplode Mezzo Team Dei CFO C'è Da Dire Qua Che Non C'è Una Buona Comportazione Questo Baron Che Provine Stato E Hanno Una Bellissima World Vediamo Se Perderà La Partita Perché Arriva La Rass E Loro Sono Così Di Ricollare E Potrebbero Addirittura Paridato Le Midlane Non C'è La Wave Ancora Sono Un po' Lontani Dovrebbero Bloccare La Dotazione Rest Che Blocca Sheo Nuke E Crowny Che Sono Già Dall'altro Lato E Nuke Rischia Qui Dovrebbe Sere Ingaggiato Scorta Imperiale Difensiva Immediata Ma Ok E Andato Troppo Deep Che Viene Alla Fin Inseguita E Ucciso Uno Per Uno Scambio Del Jungle Per Il Midlaner Resto Viene Stordito Viene Ritraccinato Dentro Da Adam E Lo Abbattono E Un 2 Per Uno Adesso E Per Uno Si Hanno Gridato Sicuramente Cercare L'ingaggio Non Devono Ingaggiare Semplicemente Poccare Le Distanze Vole Sfruttare La Prova Comp Però Non È Tutto Perso Sono Ancora In Vita I Due Carry E Ancora In Vita Il Tank Quindi Questo Barone Rimane Molto Pericolosa Comunque La Chat Appena Visto Il Flash Di Atrox Attiltato Io Sono Qua Dico Vabbè Il Flash Si Sbaglia Dai A volte Succede Anche La Pozzo Mamma La Tj Si Fa Sentire Pugni Nelle Mani Scaricato Il Danno Su Shun Il Baron Viene Completato Jime Tanta Profondità Da Parte Sua Arriva Il Knock Up Di Sessuani Arriva Il DPS Di Crown Doppio Cisina Raccolta Ai Danni Del Povolo Alistar Ma C'è Una Kill Per Crown Su Jime Hanno Preso Comunque Il Baron Ma Demostra Davvero Attenti Sia Non Non Buttare Non Perché Il Fight Inizia Non Bene Di Più Abbiamo Croni Bastissimo Di Vita Hanno Trollato Totalmente Il Qua E Questo Commitment Su Azir Che Costa Il Fight Perché Qua E' Vero Che Ammazzano Ma Poi Ress Si Trova Totalmente 1v4 Puoliposizione Giochiamo Semplicemente Per Il Baron Poi Un Panic Flash C'era Tutto Le Grave E Qua Colla Il Baron Che A Mi Che Poi Costerà Anche Di Morire 2x2 Credo Sì Sì In questo Fight E' 2x2 Ma E' No Il Baron Hai Il Baron Che Ti è Rimasto Comunque Su Sejuani E Su Xayah Quindi Anche Abbastanza Buono Come Detentori Del Buff Perché Puoi Andare Magari A mettere Nuke In Side Lane Insieme A Sejuani A Dargli Un Minimo Di Copertura Xayah Fai un 3x2 Che Non È La Cosa Più Efficiente In Assoluto Poteva Andare Peggio Andare Molto Peggio Qua Sejuani Incatenata Un attimo L'orso Da Natrox Ma Nulla Da Fare BDS Ora Che Continuano A mantenere La Pressione Alta Con Questi Doppi Minion Cannone Che Colpiscono La Torre Finalmente Possono Permettersi Di Ripulirli Con Infatti Vedi Anche Lume Di Controllo Che Viene Contestato Ora È Di Nuovo Totalmente Iman BDS Vorrebbe Un Pick Fuori Posizione Ma Chi Non È Così Potrebbero Anche Pensare Al Dive Sicuramente Meglio Il Dive Che Continuano A Farsi Foccare Quasi Però Buona Restituzione Su Adr Che Sicura Ma Forse Ma Abbastanza Ma A Zero Ora Fa Veramente Tanto Male Siamo Arrivati Livello 15 Quasi Livello 16 Per Lui Ahia Questo Ha Fatto Male Questo Ha Fatto Molto Molto Male Bella Bella Shock Blast Da Parte Di Jace Anche Se Xaia Può Curarsi Comunque Grazie Allo Cetro Vampirico Che Ha Preso Dalla Sua Infatti Abbiamo Vista Già Rigenerare In Parte La So Questo Dovrebbe Essere Molto Molto Interessante Come Fight Vedremo Chi Avrà La Meglio Adesso Butta Dentro E Intanto Può Scattare Fuori A Due Secondi Full Down La Sua Shock La Da Jace Crowning Subisce Un'altra Qualcuno Può Mettersi Per Tancare Le Shock Blast Eh Ma Non È Fagio Perché Non Sera Dove Arrivano Quando Arrivano Quindi Anche L'angolo Per Tancare Non È Banale Ora Lo Sai Però Adesso Partono Per L'All-In Set In Profondità Prende Tempo Grazie A Gordring Grazie Ai Fugli Nelle Mani Ad Ambasso Di Salute Il Dragon In Frattempo Viene Conquistato Anima Nella Montagna In Cambio Del Top Laner Molto Di Più E Per Interessante Perché Appunto Penso Ormai Che Siano Più Forti CFO Ma Il Mountain Cambia Un po' L'equazione Come Dicevamo Aiuta A Giustire Meglio Questo POC Però Passerà Questa Una Bella Domanda Inoltre Stanno Prendo Un Sacco Di Taglie Che Sono Mille Gol Di Svantaggio È Ma Rimane Comunque In Vita E Qua Xayah Ulta Quello Che Nel Stanno Nemmeno Uno Special Che Faceva Troppo Male Dando La Possibilità A Ma Di Partire Qua Hits Di Casa Flesha Pure Lei Sul Muro C'è Molti Errori Motivi Poi Morirà Da Azzir Poteva Anche Vita Di Morirci Lei Per Questo Ovviamente È Un Ace Un 4x1 Che Non Dispatici C'è Però A differenza Della Soul Che Invece Quello Da Un Po Più Fassilio Riccaltro Erano Anche Separati Il Loro Focus Con Jace Che Era Ben Lontano Dal Poter Essere Aggredito Cioè Non è Neanche Dici Ci Giriamo Su Jace E Via I BDS Si sono Infilati In Un Corridoio Contro Due Skill Shot User Che Sono Jace E Quella Kai'Sa Non Potevano Fare Scelta Peggiore Chiudersi In Un Corridoio Proprio No Assolutamente Categoricamente No A volte Sei un po' Obbligato Sì Sì Assolutamente Chiaro Chiaro Vuoi scappare Ti trovi In punti Dove Non Vorresti Starci Anche La Summer Srafted Invita Un po' No Per A A Questi Corridoi Così Stretti Per Aumentare Anche Il Bevi Stronzo Che Hanno Detto Di Bene Vediamo Un attimino C'è Il Barrow Up In 50 Secondi Vediamo Se Continuerà Questo Arras Da Particiamo In Bassa Un Colpo Su A Zero Oxaya Che In Questo Non Arriva E Su Posizione Beh No Infatti Stava Stava Già Arrivando Sceo Labro Insieme A Cosa Hanno Vissa Crown Adesso C'è L'hanno Visto Sì Quindi Deve Lì Rompe Lo Scudo Questo C'è Da Ricordar Non è Un Counter Però Comunque La Fassiola Soul Cosa Sta Pintando Perché Ha Fatto Il Tizio Di Mami E Una Giants Belt Non Approvo Nemmeno Io C'è C'è Piuttosto Commita Dubito Che La Proccherà Mai Ma Sunfire Magari Ci potrebbe Anche Riuscire Dopo C'è In Un Fight Prolungato In In cui Rimane Attaccato A Magari Maokai A Rell Il Punto È A Questo Punto Commita E Vai Per Quell'oggetto Per Rintero Non Credo Che C'erano Fight Prolungate No 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 C'è Di Sì All in Che Prova L'Exflash Per Cercare Qualcuno Attraverso Il Muro Lo Trova In Catena Arriva L'ingaggio E Arriba L'ultima Ok E Fare Follow Up Incatenano Ancora Una volta Sceo Che Attiva Il Mont È Una Bella Gatta Da Pelare Sì Cambia L'equazione Anche Un'altra Soul Secondo Me Non Sarebbe Sato Così Adesso Il Loro Poc Vale Molto Di Meno Comunque C'è Ghi Dando Vastidio Però Non Quanto Non Quanto Prima Sì No Perché Hai Quei Due Trecento HP Di Scudo Che Comunque Mitiga Nel Danna In Entrata Guarda Crowny Ha Perso 100 HP Da Quella Q Shock Blast Di Jace Che Prima Gli Toglieva Un Terzo Di Vita E Qua Provano Sul Barone New Attraverso Il Stato Non Se Lo Possono Permettere Sì Vanno A Segni Cercatori Vuoto Ma Non Servono A Nulla Perché Tanto Ormai Sono Sotto Torre Stanno Già Recollando Metà Di Membre Il Jace Sali Mamma Mia Assolutamente Sì La Buona Qua resti Nuovo Ha tirato La corda Più Del Dovuto E Poi C'è Anche Quell'altro In Maniera Squalida Sembrava Quasi Stesse Prima In Vita Ma Non C'era Proprio Il Resto Della Squadra Supportarlo Qua Jame Vest Saggia Può Sera Magari Diventa Una GA Che Potrebbe Dargli Una Manina Infatti Penso Non sia Andato Per Cronografo Ma Piuttosto Per Chain Vest Proprio Per Mitigare La Raz Di Jace Perché A questo Modo Sei Sicuro Al Allora Vediamo Un attimo Qua L'ingaggio Cerca di isolare Shao Si E' Primo A Cadere Esploso Per Manuel DPS Di Crown E Prende Poi C'è Adam Che Sta Picchiando Rest Che Stava Perdendo Male Il Trade Visto Che Adam Comunque Non È Che Abbia Il Trade Power Di Un Atrox Ormai Arrivato A Questo Punto Un Knockup 2 Knockup 3 Knockup Oh La shock blast Comunque Gli ha Fatto Male E VJ Dovrebbe Aver Completato Il Quarto Item E C'è Anche Il First Strike Da Considerare Che Quello Fa Una Bella Diferenza Drago Maggiore Hai Possono Permettersi Ora Di Recollare Andare Per Gli Acquisti In Base E Poi Andare Ad Assediare Col Drago Maggiore Quali Star Ha detto Minchi Si è Suicidata Invece Stava Giocando Per Negare Magari Vediamo L'azione Perché Appunto Parte Così In Gaggio Su Ciao Si Muore Nel frattempo Uno contro Uno Nella Top Vediamo Rest Che Sta Battendo Adam E Sul Buon Adam Che Ne Viene Ho Asciutto Prima Ancora Di Poter Utilizzare W E Quasi Scappa In Questo Vento Qua Secondo L'Abro È Sotto Ovviamente Fondamentale Perché Ha Impedito Che Maokai Si Buttasse Dentro In realtà Non 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 Impedito Però Concettualmente L'idea Ci Stava Di Andare A Dare Rogna A Maokai Anche Se Non Avvenuto Del Tutto Ha Preso Danno E Ora La Wormog Quindi Si Gera Al Volo Anche E Niente Quando Se Giovanni Alla Wormog È Finita Non Puoi Farci Nulla Cioè Prendi Quella Rass Di Faccia E Non Mi Togli Neanche Lo Scudo Adam Ingaggiato Incatenato Costretto Al Quella Xayah Che Continua A Scaricare Un DPS Incessante In fight Ai Nuke Che Adora Non Molto Di Successo Questa Zir Però Qualche Scorta Imperiale È Stata Carina Mettiamola Gentilmente Così Allora Se Riesco A Spettare La Fine L'Elder Dex Sono 30 Secondi Non È Detto Che Scusate Anche Perché La Wave Non C'è Facce Sfasciate Qua Da Occhio Bella Scorta Imperiale Per Prendere Tempo E Zonare Tanto Rischi Da Parti Nuke Angelo Custolo Già Proccato Shutdown Raccolto Adesso Adesso Seconda Uccisione Adam Che Prova A Fare Piedano Possibile Tre Uccisioni Raccolte Quattro Uccisioni Raccolte E L'Ace Non Lo Vincolo Però È Un drago Maggiore Conquistato Qua Prova A Fare Danno Sotto Torre Sì Dal Colpo Di Torre Di Azir Terrasporto Di G Sbots Sbots Almeno Per Prendere Qualcosa Finire Ma Vinco La Partita Capo No Non 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 È Impossibile Sicuramente Agis È Veloce Sì 20 Secondi Secondi Di Abrov Quanto È Il Qua Inibitore Te Ne Vai È Troppo Rischioso Perché Se Muori Adesso Poi Ti Inseguono E Chiudono La Base Comunque I Fight Tuttora Sono Più Forti Cioè Sono Vinciti A Zir Fatto Il Miracolo Se Ammazzava Questi Non è Finita La Partita Ma Proprio Fagile Se Non Ammazzava Shun Sì Sarebbe Finita La Partita Questo Sono Accordo Shun Doveva Morire Cioè Essendo Morti Quel Momento Questa È La Prova Che Possono Ancora Vincere Nonostante Il Mountain Drake E Hanno Fatto Un Sacco Di Grazie Questa Cosa Si Che Cerca L'ingaggio Sul Resto Non Proprio La Persona Più Facile Da Andare A In Gaggiare Ma Smetti La Basta Hai Già Usato La Ulti È Due Mio Meno Adesso Vanno Bozzaio La Prima Partita Poi Isce La Sengu Al Nato Sabe Sicuro E Non vuole Rimanere Anche Per La Seconda Paolone E King Go Sì Mi Spiace Devo Fare Tranquillo Tranquillo Non Ti Preoccupare Io Vero Chiedi Cassa La Bcs Ma Dubito Che Mi Non ce la faccio E domani mi sveglio alle 5 ti ricordo Cioè alle 5 inizia lo streaming Non te l'ho chiesto per Rispetto E vediamo un attimo perché continua a pushare Bcs Vediamo quanto sia una buona idea Qua Z però ha fatto un gran lavoro Io l'ho bisogno di riconoscere La resta deve rispettare di più di quello che sto facendo Qua cala la torre Non trovo un ingaggio Ma sono tre inibitori giù La prossima wave di minion è doppi super minion su ogni lane Devono aspettare 30 secondi per averla E un minuto perché arrivi in base da loro Quindi ci vorrà un po' prima che possono prendere Partita all'ultimo sangue E c'è anche l'elderdrake che sarà molto difficile da contestare Consiglato appunto il discorso dei minions Qua il primo che ingaggia è quando non è perdere Vediamo cosa succede Qua c'è un miliardi Ok ci prova la propria vita Non molto sensato Infatti Gemini è il primo a cadere Set che riesce a prendere tempo Grazio Lottimo Utilizza la Suprema I danni di rest martellata da parte Gemini Giaba su salute Prova a scappare Non ce la fa Il DPS Finalmente un buon focus Nel teamfight da parte dei BDS Completano la prima partita Prendono il primo punto della serie Contro i CFO Allora mi avevo puntato sui CFO Ci sono rimasto male Magari se avessero avuto il monte ne avrebbero pure vinto Però peccato per perdere così Tante cose che sono successe non mi sono piaciute Game un po' sporco Ma Tanta battaglia Tanto fight Tanto Questo è stato divertente poco ma sicuro Da vedere E mi è piaciuto che comunque CFO non abbia mollato Qua c'è uno degli sguardi che mi fanno pena Tristezza Angoscia Ah il coach disperato Eh ovviamente perché speravano di vincere su questa draft Che aveva comunque una buona esecuzione Avevano Il problema per me è che hanno Hanno fatto quegli errori in early game Che gli sono un po' costati ecco Cioè non Avendo regalato quella kill a Xayah Hai sempre dato a Xayah il vantaggio di Spike Sul suo diretto avversario Se poi vai a considerare anche il resto della composizione Non c'è mai stato un momento in cui I CFO erano davvero in vantaggio E per primi Non dico su un obiettivo Ma su uno spike di oggetti E quindi secondo me è stato quello molto molto pesante Per loro a gestire Perché Li vedevi giocare correttamente la comp Ma magari tipo i primi 20 minuti Jace non faceva abbastanza danno Ok Se non faceva abbastanza danno a distanza Soltanto al quarto Drake Quando si stava combattendo per l'anima Abbiamo visto una rass fatta a modo E un errore di Xayah Ha permesso di evitare l'anima a 23 minuti Perché se no l'avrebbero presa i BDS Cioè avevano tranquillamente la possibilità Di fare quello che volevano Beh C'è sicuramente un aspetto di RNG di fortuna Nel Mountain Che contro un team da poche Tre vince Ma rivediamo L'ultimo team fight vinto Da parte di CFO Che è stato davvero bello Qua Relna ha fatto qualcosa di Magico Xayah proprio non ha giocato Aveva il flash ma Era Nelle fauci del nemico Qua Secondo me Potevamo vencerci la partita È qualcosa Veramente Qualche sbavatura La frenesia del momento Ma Azzir con quelle kill Che danno che ha fatto Anche semplicemente Se Shunz Non fosse morto Gran Gran peccato Veramente Perché hanno lottato Hanno lottato forse Meritavano qualcosa di più Eh avranno Hanno ancora un game Forse due Se riescono a vincere il prossimo I Flying Oyster Vediamo se sì E forse la faranno Perché BDS Hanno performato molto bene Voglio vedere come Magari la draft Cambia nel prossimo Se vogliono andare Blueside o meno Tutto è possibile Però quando poi ti vedi Questi team fight Quando Il focus Il DPS È fatto a modo Sulle persone giuste Un bersaglio alla volta Ce la puoi fare Adam qua Molto arrogante A non utilizzare La sua W Quando aveva già Mezza vita E Un scudo a metà carica Dubito che l'avrebbe salvato Avrebbe dato un po' di fastidio Ma comunque La posizione era too much Senza Il flash Però Almeno avrebbe dato rogna E qua rivediamo come Labrov ha cercato di negare Maokai Però alla fine Non l'ha negato Perché Maokai Comunque vedi Aveva uno shot Per Lo steal Poi non l'ha preso Però Probabilmente spingere Maokai via E poi fargli la cuore Una giocata ancora più Saggia Ancora più safe Sì 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 Lapo Allora io ti abbandono Vai tranquillo Vi ringrazio per avermi ascoltato Vi ringrazio a te La Pozzo Per avermi Ospitato Va bene Alla prossima Se posso sponsorizzarmi La BCS La Pozzo Saremo in diretta Domani giocherà Anche il vostro idolo Serenas E niente Dai Con un buon proseguimento Mondiale Grazie mille Ciao Paolone Ciao 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 Ok E rieccoci qua Adesso riattivo la musica Aspettate Voglio rivedere il replay Che Mi guardo al volo Il replay Di quell'ultimo fight Allora il mio secondo Voglio vedere se aveva Già usato la W Sì aveva Madonna l'ha usata A cazzo di cane Per arassare dentro Al bush Sì l'ave Pensavo fosse passato Un po' più tempo Wow Pensavo fosse passato Molto più tempo Da quella W My bad My bad My bad No 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 Cioè era effettivamente Cioè era effettivamente La W in cooldown Allora cringe Perché era proprio Una brutta W Era proprio Una brutta W Di Adam Sì adesso metto le ads State tranquilli Che mi piacciono i soldi Non preoccupatevi Non preoccupatevi I soldi sono belli Me li ricordo Bravi che me ne ricordate Però sono contento di voi È un ottimo momento Per le ads Concordo Concordo Guarda la rass Da parte di Jace 50.000 danni 50.000 Parca puttana Eh Jace è stato Molto bravo eh E dov'è Paolo Eccolo Ricominciamo Però Atox blind Blind ottimo Qui E che non hanno punito Mai l'early game Non ci sono mai Riusciti a punire Quell'Atox Non è mai stato punito Nei primi livelli Non è mai stato Aggredito tanto E questo purtroppo Gli è costato Perché Sheo ha cominciato A giocare bot side Perché Crowny Stava vincendo Grazie a quel dive Che era venuto prima Fatto con i piedi Cioè è anche inevitabile Che questo succeda Cioè Ragionatela in questo modo Se io vedo Se io vedo che Il mio anti carry Sta vincendo Madonna era anche peggio In face di nuca A questo giro Meno 577 gold A 14 Dicevo Se io ho Crowny Che è in vantaggio Di 1480 gold A 14 E di solito È a 218 Tu continui a giocare Per la top lane O per la bot lane Capite il motivo Per cui Secondo me Non c'era nessun motivo Per andare a premere Sulla top side E quindi andare a punire Quell'Atox Se hai bot così in vantaggio Continui a mettere pressione Su quel lato inferiore Di mappa Così che continua A premere E bullizzare E infatti Xayah è stata molto importante In molti dei fight Nell'early to mid game Xayah faceva la differenza Nuke Totalmente anonimo Nuke a me dispiace Ma con questa zira È stato molto molto anonimo Molto assente Non lo so Era Era Qualcosa Che non mi è proprio piaciuto Andatemi un attimo Regà È sempre anonimo No con sindra Non è male Yuri lo so Che sono tanti 11 annunci Però Così almeno Quando la gente Entra in streaming Non deve sorbirsi Pubblicità Che secondo me È una cosa bellissima Che quando tu entri Tu cominci a guardare Subito Mario Matchmaking No Paolo Adesso è andato Preparare la bcs Visto che inizia Alle 4 4 si inizia Per tutti quelli Che hanno Tancato di faccia Le ads Vi vogliamo bene Grazie mille Per il vostro supporto E lo fate anche Per il resto Della community Ricordatevelo Perché con questi 3 minuti Adesso tutte le persone Che entreranno Nei prossimi minuti Non devono Assorbirsi Le pubblicità Sì sì Le pubblicità Sempre nei punti morti Raga Davvero davvero Grazie Che siete così Pazienti Ho visto che Gaps Ha regalato un cactus A Faker Bravo Bello 3 minuti di un'ora E me ne becco volentieri Grazie Vampers Sempre degli eroi La chat Sono dei troppi Per le partite Iwards Sì ma soltanto Sul sito di Lolisports Solo e soltanto Sul sito Lolisports Mamma mia Raga Io sto adesso pensando Mi sto rendendo conto Holy shit Adesso Dovrò fare un casting Vestito da maid Dovrò fare un fucking casting Vestito da maid Gesù santo Questo mi fa male al cuore La pochan Mamma mia Lo vogliamo in piedi A quando quello Cat maid In effetti La pochan O tere La pochan O tere kun Ah Quale funziona meglio Teniamo la maid Per la prima partita Di G2 Eh Deve arrivarmi In tempo Scusami per il nubismo Mi spieghi In 15 secondi Come funziona la selezione Che non ci capisco nulla La selezione dei campioni Intendi Zio Rubin O intendi O intendi Qualcos'altro Te lo chiedo Perché voglio essere sicuro Di rispondere correttamente La tua domanda A mille sub Vestito da sposa La selezione dei campioni Allora La selezione dei campioni Funziona in questo modo Entrambi i team Bannano tre campioni E poi cominciano a selezionare Il lato blu della mappa Seleziona un pick Poi il lato rosso Della mappa Ne seleziona due Il lato blu Ne seleziona due Il lato rosso Ne seleziona uno E ricominciano i ban Banna rosso Banna blu Banna rosso Banna blu Il rosso seleziona uno Il blu seleziona gli ultimi due Il rosso seleziona l'ultimo Bevi stronzo Che ti hanno detto di bere Dove si svolgono i mondiali quest'anno In Corea Di nulla zio rubi Non piacere Bella Draksev Ho capito che è meglio Abbonarsi Beh è un ottimo Ragionamento Bella si ci sta Effettivamente Ha più senso abbonarsi Dici Beh piuttosto che Tancarmene di faccia Sai cosa Ma famo che no Abbiamo un'acqua naturale Abbiamo un'acqua naturale Che differenza c'è Tra qua giocare Ranget in jungle Come in playstyle È molto diverso Come in playstyle Molto molto diverso Uno è un assassino L'altro invece È un campione Che deve trovarti Fuori posizione E deve Avere il potenziale Di trade Dalla distanza Prima di potenza Deve un pochino Ammorbidirti O trovarti già debole Secondo te dovrei vergognarmi Mi ho lezionato 41 Mastery 7 No Bella Bitolk Grazie per la sub Andiamo con Stocco Streaming Come stai? Bene Molto molto bene Grazie Comunque Robo Ha trollato volontariamente Grande Lapozzo Andiamo con Stocco Streaming Come stai? Domani fanno le estrazioni Per i 19 Sì in teoria sì Bella C'aiolas Grazie per la sub Grazie Grazie Un video con me Bertra in versione made No raga No Pensi che vedremo qualche accali Magari nelle fasi più avanzate sì Il titano Arriva qua Il king Grazie sub Quale titano sei però? Titano ad attacco Colossale Bella Colas Grazie per la sub Com'è che si chiamava? Qual era il titano? Quello che creava oggetti? Non mi ricordo mai Quello che poteva creare oggetti Martello da guerra È martello da guerra Sì Titano martello È il titano martello Se io volessi essere un titano sarei quello Sarebbe bellissimo Il P.O.P. No non è il P.O.P. No figa non è il P.O.P. Ok Vediamo un po' Come drafteranno in questa seconda partita? Bella Giova Grazie per la sub Darius bannato Rianna bannata Bella la Pozzo Jarvan e Rumble Ma invece l'ultimo bisogno di raccontare Ormai ci ho rinunciato Ci hanno diviso in talmente tante parti il finale Beh Bannato Olaf Cosa vogliono giocare? O Renekton O Xante Eh vabbè I BDS selezionano prima No devono lasciare il counterpick E se qualche chat sarà piccato Penso che Forse nelle fasi più avanzate Qualcuno riuscirà A inserirne uno Ma non è facile Sulla di Kaiza Vedo che builda il motoruna Invece che il danzatore Situazione Quali due hai Se è meglio su Kaiza Dipende dalla situazione Oh banni Xaya Oh E lo bannano i BDS Quindi In teoria non dovremmo vedere Xaya e Kaiza Perché vabbè Xaya non c'è ovviamente Merda però Crowny che va su Ezreal Oh no Oh no chat Oh no Oh no I BDS vanno Ezreal È finita It's Jover È finita raga Adesso vanno per il biondino bastardo No lo fanno No No per favore Non piccate Ezreal Non fa Ok Tanto è Ari Ok no 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 Perché state facendo gli errori Nell'altro giorno Perché state piccando First stop Perché il coach decide di intarla Quanti soldi ha scommesso contro i BDS Panzone Grazie per la sub Ma davvero spero che se ne abbia fatti davvero No dai No regà dai Hai una Hai una condizione per vincere Che Xaya in bot Lei nel counter pick top Cosa fai Lock il counter Lock il blind pick top Ma perché Ma che senso ha Lo so che non sono BDS Che cazzo vuol dire Cazzo leg Ci ha scommesso il suo patrimonio Davvero Zen is angry Oltretutto bastare Nekton Io non Non me ne capacito Mutali Fai bravo Hanno piccato Kaisa Se piccano Ezreal Che cazzo c'entra Che è Nadia No non piccate Ezreal Vi prego No non piccate Ezreal Vi prego Raga Io soffro di pressione alta Non possono farmi ste robe Ah Nuke con Anzir L'abbiamo visto performare bene prima Giusto chat Giusto chat È andato tutto benissimo L'abbiamo visto andare così bene Proprio Dico Mmm Proprio bello Un bello Tasty è stato Yep 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 Calmati Lapo Non tiltare Non tiltare A partire Prima Zir 40.000 danni Era tanto invisibile eh Molti degli danni li ha fatti anche nell'ultimo teamfight Atrox Atrox Verso Renekton È abbastanza Allora È uno di quei matchup in cui È così divertente guardare i primi tre livelli Perché Dipende così tanto dagli errori dei singoli Post livello 3 Se gioca correttamente Renekton dovrebbe ararlo Atrox Wow Hanno bannato È I CFO Che bannano Ezreal Merda Che gentili Perché il coach dei CFO ha deciso di A scommere che Ah Perché anche il coach dei CFO ha scommesso contro il suo team E no 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 I miei soldi Stronzi Non siamo pagati abbastanza Per questa merda Rilanciono con Kalista eh Rilanciono con Kalista Ah non ti ho riservato alle 13 al sushi Eh da l'ora è già sera però Dovrebbero essere già in cena Cena time Sylas Intuazir Non è male Hai anche la lancia oscura Puoi legarti a qualcuno Merda Puoi legarti a qualcuno anche di importante con Sylas Minchè immaginati lanciare in Rakan o Sejuani Orel O Alistar Alistar Cazzo Si Locca Alistar Vets Eh Minchia Puoi lanciare Alistar o Sejuani in Porco boia Bello bello Ok 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 Ah raga penso Aspetta Ho gli occhiali sporchi chiaramente Quale è un lock di Tarik Into quella gomp E partita la sfida Chi ha la paper draft peggiore Quale è un lock di Tarik Into Sylas Allora Kalista Tarik Hai un ingaggio Veramente figo Già nei primi minuti in lane E' super azzardato però Nella comp Cioè Se i CFO rubano la ulti di Tarik Che cazzo fanno i BDS Cioè Si inginocchiano Prendono una spada E fanno Arakiri Sono molto confuso Bevi stronzo Che ti hanno detto di bere Sì ok Non hanno la doppia Vitarik Quindi può soltanto Metterla sulle persone Attorno a se stesso Sylas Ma Non lo so Essendo 4 corpo a corpo È facile applicarla su tutti Non mi convince Questa draft Dei BDS Per niente Sylas si lega A chi? A Sejuani Si è legato a Sejuani Orca Questo game Sarà una tale ignoranza Oh Però è una bot L'indiversa Dovremmo festeggiare Per questo chat Karani non ha mai giocato Kalista quest'anno Sicuro 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 Di questa informazione Dammi un attimo Arrivo eh Ah BDS Crowni Non ha mai giocato Kalista Per tutto l'anno Confermo Pensavo almeno Un game Ce l'avesse Mmm Non molto rassicurante Questa cosa Oh no Oh no Eh A livello 1 A livello 1 Crowni ha perso il flash La purificazione Nella vita Porco 2 Per Anche il blue buff Il dolore fin... Vabbè Vabbè raga Che cazzo c'è? Che cazzo gli dici qui? Non è un buon inizio Bro hanno perso bot lane Non è un cattivo inizio Bro hanno perso bot lane Sì adesso sposto la mia webcam Sono tiltato Cosa stiamo guardando? Perché crowni a calista e hanno invaso così? Into Alistar Eh Jimmy fa il cazzo che vuole Ha preso già prima È livello 2 Non ci credo Non ci credo raga Non ci credo Cioè Cioè il coach dei BDS E decidi di mettere in mano ad Adam Renekton Io non so se è stato Adam a chiedere Renekton O se è stato il coach a dire Renekton Ma tra i due ho proprio una profonda vergogna Non ci credo No ma raga ma proprio non ha senso come invade Cioè siete in tre andate a invadere Ma piazza vision profonda e vattene Ma neanche profonda Mettila lì sul bush Cos'è? Boh No Mi dispiace È brutto a dirsi Ma questo è proprio trollato dai BDS Cioè 800 gol di svantaggio a 3 minuti È gravissimo È gravissimo Capite che c'è Adam che è andato in roaming mid Per provare ad aggredire Jimmy E spaventarlo Perché sanno che è là da qualche parte Ma non sanno dove I CFO Infatti ha spampingato il punto di domanda sul fiume Perché hanno visto Aatrox spostarsi a top play Quindi sanno già che è andato mid Le fa ste robe Adam L'hanno già visto fare È Crowny Guardate dove deve giocare Crowny Perché sennò può essere gancato o aggredito Eh mo vanno su Labro Ne deve flashare Io Ah eh Ah eh Eh Nuka ha appena perso il suo timing di recall Perché gliel'ha bloccato Sylas Mamma che disastro Che disastro E il rest sa giocare meglio questo matchup di Adam A quanto pare Adam che utilizza la E dritta Dentro la catena infernale di Aatrox Cringe Mamma raga che crin- Cioè così no raga Così mi ha fatto proprio male E mo rigancano Ok c'è Sheo a coprire però Mamma che disastro Sì abbiamo quasi sicuramente una serie Non l'hanno visto? Sì sì l'hanno vista L'hanno vista Infatti vedete come hanno subito Fatto passi indietro Step back Bello Oddio la draft Oddio la draft Come cazzo la giochiamo Più che altro perché hai due early game champion E un late game che è nuke E adesso arriva Chilly game Perché ti servivano Adam e Crowny In vantaggio Per poter effettivamente Fare quello che volevi No vai a vedere Statistica di Crowny Con Calista No non sono un autolesionista Che significa Avere una serie Lo diciamo Spesso e volentieri Quando magari Siamo ad una singola partita Cioè un team Ha vinto una partita E poi abbiamo E dici L'avversario ne vince una Quindi è uno a uno E quindi è una serie Perché si gioca tutte e tre le partite O nel caso fosse due a zero E si va due a uno E abbiamo una serie Perché andiamo per più di tre game O più di due game Dipendentemente Con naturalissima il giocatore di CFO Eh non so dove metterla Se no regà Voglio lasciarvi comunque Le informazioni a schermo A me piace quella posizione Fa anni secondo me Come posizione Kaesare con l'altro Siamo 51 milioni a 38 Eh mo Calista al flash Però Good luck in esports bro C'è la wave Impressione positiva Shun non pushare Ma lascia in pace Quella wave Oppure vogliono far drago E vuole dare copertura Per quello Lo sta pushando Forse lo sta pushando per quello Potrei aver giudicato Troppo presto Sì 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 Ok vuole pushare per il drago Vuole pushare per andare Ad aiutare al drago E velocizzarlo Ok I guess Cioè non è una cosa sbagliata È soltanto un Errore mio Voleva pushare per quello Poteva congelarla Cioè Gemini e E E Shao si Potevano farselo in due Quel drago Secondo me è stato un po' Uno spreco di un congelamento possibile Fossi Calista che avresti messo Come di Carey Avrei chiamato sostituto Avrei giocato Seraphine Ziggs Botlane E non è una gag Questa cosa È una cosa che hanno allenato Ci sono team Che l'hanno allenata Forse non i BDS Noi però avresti avuto Troppo danno magico Non che Il Crowne Contribuirà con danno Fiji con questo game Adam Incatenato Arrivano le ulti Rest non trova Il secondo knock up Adam prende tempo Un'altra Q Da parte di Rest E tanto Adam Non può andare oltre Cioè Rest Comunque gli torna In cooldown Ora Non deve essere Avere ragione Per il Ziggs Sto basso che gli hanno fatto Si vede più in competitive Ma oddio Loro giocano in 13.19 eh Cioè È in 13.20 Che forte Adam Ho catenato Morto Facile E qua Il game è dead Adam che fa Copritevi le orecchie Schifo Abbastanza chiaro Oh oh Qua Bello l'ingaggio Ai danni di Crowney Prova a salvarsi Utilizzando Caista Ma Uh Rallentato Crowney si salva per un soffio Labro deve flashare Bravo Sheo a intervenire No Voglio far vincere la schiena Al coach dei ZFO Siamo ovviamente scherzati Che ci fa Gemini lì? Non ci credo Non ci credo Gemini è fico Che cazzo stiamo guardando Che cosa sto guardando? Ma cos'è? Ma perché? Taric che aspetta dietro Invece di entrare Tirare l'ustione Che cosa sto guardando? Il altro perché? Adam perché hai fuggito verso il fiume per poi tornare verso la rain? Questo non l'ho proprio capito Cioè hai dato il range ad Aatrox di inseguirti Potevi scappare verso il bush Così che non sapeva in quale direzione andavi Cioè servirebbe il rumore di papelissima sprint qua Aspetta che lo troviamo al volo Bevi stronzo che ti hanno detto Cioè raga dai Questo fight Che cosa devi dirgli? Ah ca**ra Ah cacchio una kizu nuke Wart Non ce la faccio Oh mio dio Oh mio dio Questo commento è anche commedia Qua si che c'è qualità Orca miseria Un cine panettone Sto game Manca soltanto Massimo Boldi Non scammare i baby alert Bevo bevo tranquilli No flame a volte fanno giocate Bro potrei farti vedere Un intero segmento di errori di faker Cioè essere a questo livello Non significa che non fai mai errori Aatrox qua ha free trade contro Renekton Continua il resto Ti tornano i cooldown Cioè Renekton non aveva cooldown disponibili Poteva rigirarsi e adesso rest La PCS è il circuito pacifico Cucicibia Cucicibia Ho detto giusto sì Ma avevo detto giusto Ma avevo detto giusto Merda È semplicemente il jet lag Eh beh Massimo Boldi è crowning Il peso è quello Dici Perché domani siamo pronti No non è Team Wales contro Gum Team Wales è contro È contro il vincitore della serie di prima Che sono i Gum E qua Adam Non aveva il flash per fortuna Adam è the sick Sì ce lo vedo E se mi dico su YouTube Di avere il fake Competitivo Due a due minuti Bro posso tranquillamente Trovartene una montagna Di molto più lunghi Sì domani abbiamo Vietnam contro Vietnam E poi Dipende da questa Potrebbe essere Circuito pacifico Contro circuito pacifico Per come stanno giocando I BDS adesso No sulla programmazione Raga non c'è Gum vs Whale Non è vero Letteralmente no Andami un secondo È Gum vs Whale Sì No è Gum vs Whale Non è Talon contro Whale Non è PSG contro Whale È Gum vs Whale È giusto È che abbiamo detto Però è No è Maledizione Allora no Confuso io È Gum contro Whale È giusto È Vietnam contro Vietnam Perché sono di due gruppi diversi Perché è Gruppo A È gruppo 1 contro gruppo 2 Il primo del primo gruppo E il secondo del Secondo gruppo È giusto È giusto È giusto È giusto No infatti Per un attimo Mi ha confuso Dicevo No è normale È giusto così Se sono in due gruppi diversi È normale che finisca così No È errore mio È errore mio È errore mio Ho capito male io la frase Questo nuovo mondiale Comunque è un macello Meglio di prima No raga Questo game è proprio È un auto win Per i CFO Cioè dai 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 Andiamo alla prossima Magari con una draft decente Ah sto giro BDS Queste squadre sono i favoriti No Cosmo No no Questa è la fase di play-in Devi qualificarti alla fase svizzera Che è la fase principale del mondiale Questi qua sono i team minori Ah beh Eh ha preso il gromp Bravo Oh mamma mia Vabbè Adam non può far niente ora Ve l'ho detto che dipendeva dai primi livelli Come viene giocato Perché poi è skill matchup E se uno prende vantaggio It's Jover No non puoi fare FF In un game di mondiale Non più Da regolamento non puoi Sì raga ma questi sono team minori È anche normale che non È anche normale che vada così Open mid sì però No Non lo fanno Domani a che ora è la finale? Domani non c'è la finale Domani c'è la qualificazione Cioè domani È il match È la serie Best of five Due serie Best of five Che decidono i due team Che si qualificano alla Svizzera Raga visto che questo game è così Vado un attimo in bagno Scusatemi Ma tanto c'è È abbastanza monodirezionale A meno che non succedano miracoli Come minimo succede adesso Mentre vado in bagno Però vado in bagno Però vado in bagno Però vado in bagno Scusatemi Perchè Mentre Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come due? Che cazzo è successo? Ah, vediamo un attimo. Crowni. Sono sul drago. Che cazzo era quello strappo? Ma che ovvi... Ma cos'è... Ah, sono comunque a sole point i CFO. Quindi no, non fa differenza. Sono a sole point, sono in vantaggio di oro di 2600 unità. Hai Kaizai in spike su Kalista. Hai Atrox in vantaggio di spike su Renekton. Ma Okai ha il demonic, questo è un po' un problema, ma se non fosse che Sejuani ha un abyssal mask completa... No, comunque sono in vantaggio. Sono comunque in netto vantaggio. 3 torri a 0 pure. La partita di prima è al contrario. No, no, è peggio. Perché i BDS l'hanno trollato in early game. Soprattutto hanno messo BDS e PSG con i team qualificati per la base svizzera. E non può più succedere. Perché i BDS hanno perso la serie contro il team Wales. Comunque, raga. Vedete, il first time avviene anche al mondiale. In questo caso è Crowni. Beh, l'Eating Thunder. Grazie per la sub. No, scusatemi se sono andato in magno, ma... Come vi dicevo gli ultimi giorni, non sto molto bene. È già due giorni così, eh? Non piacevole. Però sono qua per voi. E' il stronzo che ti hanno detto di bere. Perché voglio bene. E voglio... Io, quando prometto una cosa, la faccio. Crowni non è first time. No, no, fidati. È first time. Definitivamente noi siamo tutti first time. Però nella vita. Cazzo, pensala così. Merda. Siamo first time in life. Se puoi... Se sei first time in life, è davvero colpa tua se fai degli sbagli? Beh, oddio, sì. Sì, sì, sì. No, certi sbagli sono veramente abbastanza hobby da non fare. Io smurfo dalla mia vita passata. Anche nella vita vera c'è il multi-account. Se sei così, per essere first time ho draftato malissimo. Vabbè, ma sono i primi... Le prime vite sbagli sempre i setup di rune. Cioè, è abbastanza normale. Anche l'itemizzazione è sempre fatto una merda. Cioè, trasta che alla quarta-quinta comincia a prenderci un po' la mano. Però, so appunto che se hai soldi puoi prendere questa cosa che ti dà il build e le rune corrette fin da subito. È molto comodo. Però devi... Cioè, questo buff si chiama essere ricchi. GDS, che provano l'ingaggio. Hai daniji, ninja, basta di salute. Oh, maokai è il recitazionale. Resto che va in profondità. 2000 HP. Smiteate quel baron, cazzo! Oh. BDS forse la vincono. Holy shit! Ne hanno ucciso uno. Nuke, non si sa come ancora... Eh, viene smaitato da se suami. Holy shit! L'han giocato veramente bene i BDS. L'han giocato veramente di Cristo. Bravi! Bravi! Adam! Non fare... Ma che scim... Che cazzo di scimmia! Scusate. Scusate. Ma perdonatemi. Non è carino. Ma... Questo è proprio... È proprio brutto. È proprio... È proprio brutto. Cioè, come player competitivo è proprio brutto. È proprio da cretini. Mi dispiace. È... È brutto. Lo so. Non è stato... Perdonatemi. Perdonatemi. Non dovevo chiamarlo scimmia. Però questo mi ha dato proprio fastidio. Sei al mondiale. Sei al mondiale. Lapo. Uccidilo. Mutali. Ok? Ridici sopra. Ma stai rischiando di morirci. Uccidilo. Non ha senso fare così. Ok? Dare spettacolo. Io sono sempre per lo spettacolo. Lo sapete che mi piace. Questo non è uno spettacolo. Questo era brutto. Questo è mancanza di rispetto. Calmati, Lapo. Non tiltare. Uccidilo. Basta. Non tiltare. Basta che tira una Q, eh. Bastava tirare una Q e un altro attacco. Sì, ci ride sopra. Lo so che è una cavolata. Lo so che è una cavolata. Me ne rendo perfettamente conto. Voleva BMare un po'. Dai, però. Dai. Chiudi la kill e pusha. Hai perso un Baron Buff perché volevi fare il cretino. State già anche rischiando di perdere. Adesso no, perché avete fatto il Baron. Avete fatto un bel T-Fire. Ma fino a un secondo fa state rischiando di perdere, eh. Oh, Crowni comunque il suo DPS lo sta facendo. Non si sa come si è risvegliato. Non poteva essere per farlo esplorare più tardi. Non così. Non così. Più che altro se c'è il rischio che tu ci muoia non ne vale la pena. La probabilità di vittoria di... Guardate la probabilità di vittoria di CFO al Drago dell'Oceano che era letteralmente quasi al 100%. Non pensavo che il caso di calcio scommesse si estendesse più nelle walls. No, no, no. Figurati. No, io scherzo sopra la cosa delle scommesse perché... Perché è un modo per tirare delle gag, raga. Perché viviamo in un'azione in cui la gente scommette sul calcio e allora ci tiri una gag sopra, ma non è... Oh, oh. Utilità, Rick. Lanciato in avanti. I soldimenti mancati totalmente. Shao Si brutta la profondità. Mi costerà caro. Resta anche morto. Trappo. Oh, due kill. Ma ok, ci va. Ci va, ci va. Legnata. Jimmy va subito di insonio, giustamente. Adam che non riesce a tirare uno stun corpo a corpo a quanto pare. Eh, qua chiudono forse. Qua mi sa che chiudono. E inibitore lo prendono sicuro. Più che altro sono rimasti in tre. Eh, no, non chiudono, no, no, no. No, 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 no. Soprattutto con crowning che va corpo a corpo in Tugimien. Ah, è proprio brutto comunque. No, cioè, in fight l'ha giocati anche bene. Sta facendo piccole stupidaggini. Che a me proprio... Dai. Questo era un bel controingaggio anche da parte di Jimmy. Mamma Shao Si, me l'ero perso il flash knockout mancato. Holy shit. Non l'avevo visto il flash knockout mancato. I CFO avevano un game così semplice. Che succede? I CFO avevano un game così semplice. Avevano tutto dalla loro. Vantaggio di obiettivi. Vantaggio di gold. Spike prima degli avversari. Vai al bagno più spesso. Ah, scusate, raga. Hanno vinto il fight al Baron com'è qua presente. E la compi me too late. Ah, cioè, a Zira più va avanti il game più è pericoloso, eh. Però... Qua... Resta arriva troppo tardi. Jimmy ha già perso metà la barra salute. Shao Si ha trollato l'ingaggio. Bello il knockout di Crowney. E adesso c'è Itari che è sotto la torre però è immortale. Crowney continua a fare DPS gratuito. Easy win. Resta neanche riesce a uccidere Nuke. Bellissimi. Bravi BDS qua. Ok, qua hanno chiuso bene. Qua hanno chiuso bene e sono stati bravissimi. 2-0 BDS. Secondo me neanche il coach dei BDS ci crede, raga. Clean Ace hanno fatto, eh. Che ormai a sto punto del game ci riuscivano senza problemi. Un singolo fight storto dei CFO gli è costato la serie. È stato un bel combattimento. Ma signore e signori abbiamo... Che cosa? Ma perché? Mi uccano che si lancia in fontana per fare la scorta imperiale su Alistar e ci muore prima. Porca puttana. Era letteralmente un auto win dei CFO con quell'early game. Era un auto win. Io non ci credo. La scorta era in cooldown anche. Ah, quindi si è lanciato proprio for fun. Non l'avevo visto. Pensavo fosse per quello. Non ha un engage facile su una calista che ha pure l'ultitale vicino. Se engage ma ok a zero, a mio parere i livelli di T-Gombi BDS sono superiore, non credi. Il punto è che dovevano arrivare fino a quello spike. Cioè, purtroppo abbiamo visto... I CFO... Non ho visto dopo i 15 minuti un ingaggio di Alistar. Non uno. Anzi, abbiamo visto tanti, tanti errori. Bella, nervo cranico. Grazie per la sub. Perché il potenziale per i CFO c'era di vincere questo game. Abbiamo detto a inizio game una cosa. In late game... Faticano veramente tanto i CFO. Veramente, veramente tanto. No, non penso che si prenderà una shit store, madam. Però, sì, un po' di gente lo andrà a criticare. Oh, c'è la G. È la G? Non riesco a capire. C'è una dei nostri mod. La G. Non capisco se è lei. No, non riesco a capire. Non riesco a comprendere. Non vedo abbastanza bene. Ho gli occhi... Ho gli occhi fusi. Titaia, per arrivare al mondiale, che dovrebbe fare? Deve giocare lecchi, intanto. Hanno vinto i BDS, raga. Hanno davvero vinto i BDS. Hanno perso i soldi dalla scommessa. Sì, la musica, la musica. Adesso la metto. Parca droia. Parca puttana, raga. Al fight al drago... Eh, non l'ho visto il fight al drago. Ho visto il replay, ma velocemente l'ho visto il replay. Ma qualcuno ha avuto dei drop oggi? Io non ho avuto nessun drop oggi. Zero. Ho visto l'azione... Sì, l'azione di Adam vs. Kaisa, sì, l'ho vista. Esistono i drop. Non qua sul mio canale, ma sul canale Lolisports. Infatti io ho una tabba aperta. Devi andare più spesso al bagno. Allora, questo primo game della serie era bello, dei BDS. Avevi Crowny che ha giocato veramente bene. Non droppa solo Lolisports quest'anno? Sì, io ho avuto già... Aspetta un attimo, andiamo a contarli. Ve li posso anche far vedere a schermo. Aspetta un attimo. Arriva, eh. No. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci drop. Quindi sì, ci sono i drop. No, c'è chi ne ha avuti undici, perché alcuni drop sono casuali. Cosa danno questi drop, icone e robe del genere? Icone, emote e così via. Chi lo vede i 150 milioni di RPG sarà come l'anno scorso. Boh, non lo so. Così sarà o meno. Azz? Dice, lanciamo un Azz adesso? Siete più money grabber di me? Sono fierissimo di voi! Ma dove li vedi questi drop? Sull'Lolisports? Basta che vai nella tab, premi, grossa scritta in alto sopra. Ah, qua stanno partendo via le periferiche. BDS power. Bevi, stronzo, che ti hanno detto di bere. C'è un altro game. No, no, è finito. Adesso abbiamo Paris Saint Germain contro Team Wales. No, wait, what? Ah, no, che... Eh? Eh, ma poi li ricombinano. Sì, 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 sì. Semplicemente fa vedere upper e lower brackets. Sì, 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 sì. Perché poi è Paris Saint Germain contro... Contro BDS e Team Wales contro GAM. Sì, 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 sì. No, è che fanno vedere il bracket così e poi... Eh, esatto. PSG contro BDS. Qua è il canale dove si droppa esport2te... No, 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 il canale dove si droppa è sul canale... È il sito lolisports.com. Sei pronto per domani mattina? È alle 5 del mattino. Alle 5 del mattino. I G2 quando giocano? Il 19. PSG è il team più tosto. Voi mai non casti più con PG? Perché non lo faccio dall'inizio dell'anno perché non mi piace più il progetto. Non mi piace come vogliono portare avanti il tutto. Io amo i miei colleghi caster, eh. Infatti non è colpo a loro. Anzi, mi dispiace averli lasciati. Mi dispiace veramente tanto di aver lasciato i miei colleghi caster. Perché li rispetto tantissimo. Alla prossima. Grazie a tutti.